Dottoressa Madone, un convegno molto lungo, molto profondo, due ore di convegno importantissimo. Le chiedo un minuto per fare un po' una sintesi di quello che secondo lei è importante dire alle donne, agli uomini, a chi ci sta ascoltando. Allora oggi è stata una giornata bellissima, io ho scelto Fiumicino pur essendo invitata in tantissimi posti. Ho scelto Fiumicino per l'amicizia che mi lega ai suoi amministratori ma per il fatto che mi sembrava il contesto giusto per spiegare a quali sono state le iniziative del governo. L'altro ieri il Senato ha votato il rafforzamento del codice rosso in tutta una serie di misure, l'incremento del numero dei braccialetti elettronici, delle modalità di applicazione, l'aumento delle forme di ammonimento però io ho sostenuto, cosa che è stata sostenuta da tutti i relatori, l'assoluta necessità di un cambio di passo a livello culturale. Senta, per passare al concreto, questo cambio culturale come si può innescare partendo dalle scuole? Ma è importantissimo il progetto presentato dal Ministro Valditara che sono queste 30 ore estracurricolari ma dedicate alla cultura della parità di genere, alla cultura della non violenza contro le donne. È una cosa a sé, assolutamente innovativa, fatta insieme all'Ordine Nazionale degli Psicologi e che esula dall'educazione civica. A colloquio con l'assessore Monica Picca in una giornata importante dedicata al contrasto, alla violenza sulle donne ma non solo, avete detto la violenza in generale. Ecco, una delle cose che mi ha colpito è questa vostra iniziativa di prossimità, scendere in mezzo alla gente per essere vicini a chi sta soffrendo e tendergli la mano. Sì, abbiamo capito quanto sia importante essere vicino e andare noi, le istituzioni che danno una mano e danno delle risposte cercando lì dove il problema esiste. Dato che il territorio di Fiumicino è un territorio molto vasto e quindi da nord alla centralità, quindi tutto il comune deve essere coperto da degli sportelli di ascolto, che noi abbiamo chiamato sportelli di prossimità, che in qualche modo recepiscano il problema e indirizzino. Il problema che le donne non denunciano è sicuramente un problema a cui noi come istituzioni dobbiamo dare delle risposte. Il convegno di oggi è la linea che noi stiamo tracciando ed è una visione che abbiamo e che vogliamo dare. Contrastare la violenza tutti i giorni, il 25 novembre è naturalmente una data simbolica, ma noi vogliamo dare delle risposte che contrastino questo dramma, questa tragedia, da tutti i punti di vista, dalla scuola alle istituzioni allo sportello di ascolto, ricevendo anche quelle che sono delle problematiche di tipo sociale, perché quando si parla con l'ordine dei consulenti del lavoro, e questo lo abbiamo fatto nei giorni passati, il problema sta anche lì, quindi dare la possibilità di rinserimento nel mondo del lavoro a quelle donne che hanno subito violenza, che magari hanno avuto anche il coraggio di denunciare, quindi si sono allontanate dalla casa, ma in me non hanno la possibilità di andare avanti, quindi questa è la nostra linea che stiamo tracciando. Un'altra cosa che mi ha colpito molto è l'idea di creare una sorta di cabina di regia che metta a sistema le varie istituzioni, dalla scuola, dall'ascolto scolastico dei più piccoli, alla ASL, al Comune, alle forze dell'ordine, insomma un modo per avere una visione completa del fenomeno. Sì, è un tavolo permanente su cui tutte le realtà si interfacciano per trovare, per evitare quello scollamento che c'è fino ad oggi, perché la prima criticità su cui noi siamo andati ad intervenire è proprio questa, la prima cosa che ho fatto da assessore è cercare di reperire i dati per capire anche come Fiumicino stava rispondendo a questa problematica, ecco solo quello mi ha fatto capire quanto invece sia necessario fare rete. Sì, intanto la città di Fiumicino si propone sempre di più come una città che riflette e che fa riflettere. Il problema della violenza sulle donne, ma sul tema delle violenze in generale, sui bambini e su tutti, anche sugli uomini, insomma, è una cosa che dobbiamo prevenire partendo dai più giovani, i più giovani che devono essere impregnati di una cultura nuova che è quella della solidarietà, della solidarietà tra le persone. Il termine possesso, quando un uomo pensa di possedere una donna, lì nasce l'equivoco di fondo, l'equivoco culturale. Ecco, oggi noi abbiamo inaugurato una nuova stagione a Fiumicino di dibattiti con autorevoli personaggi per discutere di questo tema odioso della violenza sulle donne che deve, come ricordava anche l'onorevole Matone, non è un problema di destra o di sinistra o di centro e si sbaglia quando si vuole portare sul tavolo ideologico questo problema. Questo è un fatto culturale che va prevenuto perché il patriarcato, visto in questo termine, deve essere ovviamente una cosa che va sconfitta culturalmente, così come il matriarcato. Ma questo mi sembra che è l'inizio di un percorso. Sì, all'inizio noi abbiamo cominciato a dibattere, questa è una città viva culturalmente e noi non ci fermiamo dietro il politicamente corretto. Noi vogliamo invece approfondire i temi che dalle nostre scuole inizi una nuova era di libertà culturale che probabilmente serve al nostro paese.